Intervenendo in apertura della sessione di lavori di aprile del Consiglio della provincia autonoma di Bolzano, il presidente della provincia Arno Compatcher e l'assessore alla sanità Thomas Widman hanno evidenziato che la situazione pandemica è stabile con meno persone in terapia intensiva. E se resta però precaria il che impedisce riaperture immediate. A fronte di un indice RT inferiore a 1 è stata richiesta un'aderoga al governo dalla zona arancione. Vaccino e test restano gli strumenti principali per combattere il virus, aiuti covid saranno disponibili anche in futuro. Consiglieri e consigliere hanno invitato a non polarizzare le posizioni tra i cittadini, contestato il caos dei test nelle scuole italiane e l'invio a Roma di dati che erano stati penalizzanti. Respinta la mozione di alto adige nel cuore Fratelli d'Italia ad escludere limitazioni al diritto allo studio per alunni che non partecipano allo screening con tamponi nasali. Il tema è tornato spesso in discussione con la SVP che difendeva l'ordinanza di Compatcher e Fratelli d'Italia e PD che denunciavano le lacune dell'assessorato italiano alla scuola. L'assessore Giuliano Vettorato ha riferito di un qui pro quo nella comunicazione e di test già avviati anche in collaborazione con la sanità. No anche a due proposte del Team K per la tutela della biodiversità e per ripensare la pubblica amministrazione e a una della City Roller Freiheit per garantire la diretta streaming delle lezioni scolastiche così come con risicata maggioranza a mozioni del Gruppo Verde per introdurre un pronto soccorso psicologico e per tutelare api e insetti. Alla proposta di Enzian per la trasparenza sui progetti finanziati con Recovery Plan e quella dei Frei Heitlichen per liquidare le famiglie e il bonus elettrico garantito dalla gestione di fonti locali. Discussi poi due documenti di Partito Democratico, liste civiche e Gruppo Verde emendati dalla SVP al fine di ridurre la tassazione sugli assorbenti femminili e metterli gratuitamente a disposizione nelle scuole. Il voto in merito è rimandato la prossima seduta. Via Libre invece ha le mozioni della SVP per garantire indennizia alle organizzazioni turistiche cui erano mancati i fondi dell'imposta di soggiorno e per avviare i preparativi per l'introduzione in provincia del Green Pass europeo, certificato che permetterebbe a tutte le persone vaccinate, guarite o negative ai test, di viaggiare e riprendere molte attività. Ha provato anche il voto cofirmato da SVP e Partito Democratico per sollecitare governo e Parlamento ad abbassare l'età elettorale in Italia a 16 anni, intensificando contemporaneamente l'educazione politica dei giovani.